Capisco che sei bloccata dall'emozione ma devi andare là Portati la cuffia perché ci sono 220.000 euro che sono lì per te E devi tu provare a conquistarli Sei pronta? Sì, diciamo di sì Assolutamente sì, mettiti la cuffia Bene, e siamo qui tutti pronti in attesa delle prime due parole Vizio Servizio Vizio Ghigliottina No, no, era servizio, ti rimangono 110.000 euro Strada Piazza Strada Ghigliottina Bene, bene Tigre Leone Tigre Ghigliottina No, no, ancora 55.000 euro Gloria Onore Onore Ghigliottina Bene E adesso l'ultima scelta per Rachele Cuore Amore Cuore Ghigliottina 55.000 euro Un minuto Via Che Avicati Doblija Lui Gep Qu bay Del Po in Po Po squ Grazie a tutti. Grazie a tutti. La parola che hai scelto per provare a vincere in questo tuo esordio da campionessa è oro. Oro, da dove partiamo? Dalle uniche due che sono riuscite a collegare, che sono Leone d'Oro, della Mostra di Cina di Venezia, il premio, e Cuore d'Oro. E poi non lo so, ci sarà qualche onore dove viene conferita una medaglia d'oro, non lo so. E Cuore e Cuore d'Oro. Sì, Cuore d'Oro. Quindi insomma, pochino eh? E' un'altra ballante. Non hai provato neanche a fare costruzioni con le altre parole. Una strada d'oro, ora mi viene in mente il mago di Oz, ma era di Smeraldo in realtà, quindi non credo che c'entri niente. Senti, per cercare di aiutarti a trovare la parola, userò una sesta parola particolare, poi bisogna lavorarci su. Garibaldi. Garibaldi. La camicia. Dobbiamo prendere, ricordarci una famosa canzone. Una canzone che sono anche da... Garibaldi innamorato? No, no. Faceva così, Garibaldi fu... Fu ferito. Esatto, esatto. Abbiamo ricordato, non c'è bisogno di cantarla tutta, perché l'abbiamo trovata la parola. Ferito? Eh sì, sì, è una parola delicata. Ferito. Però aspetta, leone ferito. Adesso ci arriviamo, servizio, ferito. Ferito in servizio, no? Ah, ferito in servizio. Chi si fa male purtroppo nello svolgimento delle proprie mansioni. Poi, ferito... Sulla strada. Sulla strada, ferito di strada a causa di un incidente stradale. Poi, leone... Leone ferito. Leone ferito, l'immagine che ricorre sin dall'antica Roma. Poi, ferito nell'onore. Nell'onore, con modo di dire, ma anche il titolo di un film con Giaccarlo Giannini, di Lina Bertmuller, Mimì Metallurgico, ferito nell'onore. E poi... Cuore ferito. Cuore ferito dopo, capite, una separazione. Ora io, per esempio, io in questo momento... In questo momento sei in questa condizione. Mi dispiace, ti auguro che presto guarisca il cuore ferito. E allora, ferito in servizio, ferito di strada, leone ferito, ferito nell'onore, cuore ferito, la parola di questa sera è ferito. Cara Rachele, cara Rachele, ci riprovi domani perché l'energia ce l'hai tutta. Buona serata a tutti voi. Linea Tg1, a domani.